Ciao a tutti, video velocissimo perché sono malaticcio, ho la tosse, allora dicevo ma mi è giunta voce che wikivideo mi ciula i video da youtube per rivenderli ma allora cosa dovrei fare, dovrei chiamare la polizia, i carabinieri, i finanzieri, i rigattieri, i forestieri, che film è, che film è, ma secondo voi dovrei contattare wikivideo e dire hey dovete togliere tutti i miei video cosa gli dico, non l'ho fatto, non so cosa dire loro allora vado lì e gli spacco eh, gli scrivo un'emailona non lo so, ci guardo domani allora per il video di tutto, ciao a tutti ah ah ciao a tutti